159 giacevano al buio indifferenti a tutto troppo stanche per mangiare in molti casi anche per dormire erano state rapite nella scuola cattolica dai terroristi al mattino seppellirono una di loro un terrorista gli mostrò dove avrebbero dovuto scavare la fossa vicino a un mucchio di rifiuti vi calarono dentro la compagna di sventure con sopra una coperta poi una di loro fu costretta a leggere un brano del libro di preghiere islamiche terminata la cerimonia si ripresero la coperta perché non potevano farne a meno la compagna era morta perché era stata troppo abusata dalla soldataglia le altre ragazze resistevano perché quell'orrore perché quell'orrore doveva dare a quelle ragazze nuovi mattoni di sapienza doveva aiutare loro e i loro carnefici a salire qualche scalino della loro comprensione continua grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.